Aveva investito in genti proventi derivanti dalle attività delittuose accumulando beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco. Per questa ragione un noto pluripregiudicato della provincia di Foggia, esponente di spicco della locale criminalità organizzata, è stato destinatario di un decreto di sequestro eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia. La misura ha riguardato complessivamente un compendio patrimoniale costituito da sei società, tra le quali un distributore di benzina con annesso Bartabacchi, Salaslotte, Autonoleggio, numerose autovetture di pregio, disponibilità finanziarie anche in territorio estero, formalmente intestate a prestanomi riconducibili al pluripregiudicato per un valore complessivo stimato in 6 milioni di euro. Tale patrimonio si aggiunge ai 5,5 milioni di euro sequestrati alla stessa persona all'inizio del 2023 nell'ambito di un'analoga misura di prevenzione. Il sequestro si inquadra nell'ambito delle attività istituzionali finalizzate all'aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili direttamente o indirettamente a contesti criminali, agendo così anche a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale.